Il dibattito italiano si infiamma sull'autonomia differenziata, ne descrive molti contro e qualche pro nel suo ultimo volume Gianfranco Viesti, docente universitario ed economista. Il titolo è una chiara dichiarazione di intenti contro la secessione dei ricchi. Insomma, delle piccole città-stato qualcuno è pronto a parlare anche di un'epoca pre-repubblicana? Sì, beh finalmente infiamma, sono sei anni che se ne discute ma nessuno ne sa niente. Adesso c'è un confronto politico in atto, il governo è tutto a favore, l'opposizione è tutta contro e quindi finalmente si riesce a discuterne un po'. È un processo importantissimo perché cambia l'Italia. Si può essere a favore o contro, come sono io e lo spiego nel libro, ma certamente cambiare la scuola, cambiare la sanità, le infrastrutture, le energie non sono passaggi da poco. Quindi è essenziale che chi è a favore e chi è contro, si confronti e veda le conseguenze anche sul sud di tutto questo. Il libro, edito dalla Terza, è stato presentato anche a Taranto su organizzazione del PD. I DEM sono notoriamente contrari alla misura. La ricchezza potrebbe restare solo al nord. Ma loro basano le loro richieste sul fatto che un territorio più ricco ha diritto a maggiori servizi. Io sono contraddissimo a questo principio, credo che sia in contrasto con la prima parte della Costituzione. Grazie.